Monopoli piange Cicillo, lo storico tifoso che da oltre 50 anni accoglieva tutte le squadre che arrivavano allo stadio Vito Simone Veneziani. Ogni domenica arrivava 5-6 ore prima della partita e aspettava lì sempre nello stesso posto. La formazione ospite del Monopoli, restando lì per tutta la durata dell'incontro. Una figura storica per il calcio monopolitano che avrà una ragione in più per regalare soddisfazioni anche nella stagione che sta per cominciare. Le trattative di calciomercato continuano in attesa dell'ufficialità di mister Giuseppe La Terza che dovrà prima risolvere il suo contratto con il Taranto per poi essere ufficializzato dalla società Biancoverde. Capitolo portiere, con il Crotone si sta lavorando per portare Saro con i calabresi che dovrebbero puntare su un estremo difensore over. Anche Mattia Rolando, jolly della Provercelli, dovrebbe arrivare a breve. Il giocatore sarà svincolato dal 30 giugno 2022 e può già firmare con la sua nuova squadra. Il nome che è circolato nelle ultime ore è quello di Ilario Monterisi, difensore centrale di proprietà del Lecce che lo scorso anno si è diviso tra Catanzaro e Fidelisandria. Pelliccioni lo ha avuto con se già dalla prima parte della stagione scorsa e sarebbe felicissimo di riaccoglierlo anche a Monopoli dopo quanto di buono fatto con la maglia degli Andriesi. Con il Lecce si potrebbe parlare anche di Pierno esterno destro che potrebbe essere utile sia come giocatore basso che come alto nel tridente che Mister La Terza schiererà alle spalle della punta.